Questa è la voce del dirotatore che vi parla. Da questo momento l'aereo TH vola Europa è nelle mani dei tecnoguerrieri. Benvenuti a bordo, del vostro stesso Tecnobrivido. Benvenuti a bordo, del vostro stesso Tecnobrivido. Il 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 vostro stesso Tecnobrivido. Tecnobrivido. Il vostro stesso 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 Tecnobrivido. Attenzione, 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 attenzione. Il vostro stesso Tecnobrivido. 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 Io sono vivo.